Federica Serra e Silvia Venatti sono due funzionari dell'assessorato alle politiche agricole della regione Liguria e sono presenti in questa fattoria didattica qui a Cisano sul Neva oggi perché c'è un messaggio importante che ci dovete dare e cioè il fatto che non solo questa ma le tante fattorie didattiche presto apriranno i battenti al pubblico? Sì è vero, l'11 e il 12 ottobre 59 fattorie didattiche della Liguria offriranno i loro laboratori gratuitamente su prenotazione è una bellissima esperienza che ormai è arrivata al sesto anno con una grandissima partecipazione sia delle aziende sia delle famiglie che ormai prenotano e aspettano l'appuntamento, è una bellissima iniziativa perché permette alle famiglie ma anche agli insegnanti al mondo scolastico, a tutti quelli che vogliono conoscere un po' meglio il mondo agricolo della Liguria di andare in un'azienda agricola, conoscere la realtà, conoscere la vita, l'impegno, l'entusiasmo dei nostri agricoltori e provare anche a fare dei laboratori, si parte dal formaggio alle tinture vegetali, alla raccolta delle olive, alla vendemmia una bellissima esperienza che ormai viene aspettata tutti gli anni settembre-ottobre, quest'anno capita, in questi due giorni, ormai è un appuntamento atteso Appuntamento atteso anche per gli appassionati di fotografia, è vero, ma perché? È vero, perché abbinato all'evento c'è il concorso fotografico Scattiamo in Fattoria Ossia nelle due giornate, 11 e 12 ottobre, i adulti e bambini potranno scattare delle fotografie e i vincitori verranno premiati con dei prodotti della nostra terra Tutte le informazioni si possono trovare sul sito agriligurianet.it o sulla pagina Facebook Allora a questo punto, 11 e 12 ottobre, andiamo tutti in Fattoria Didattica Sì, l'appuntamento è questi due giorni, le aziende vi aspettano Questo progetto e questa iniziativa è stata coordinata, promossa e organizzata oltre che dall'assessorato agricoltura, anche dalla direzione scolastica regionale dalle tre organizzazioni professionali agricole, confagricoltura, CIA, col diretti e soprattutto dall'Union Camere, che è il nostro partner in tutte le attività promozionali